ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con salva un amico siamo al parco canile della val basca como gestito dall'empa siamo con marco marelli presidente dell'empa di como e con la volontaria diletta con noi il piccolo nemo come arrivato qui in canile allora nemo purtroppo una storia triste arriva da un sequestro era stato trovato in una situazione tragica senza cibo senza acqua ridotto veramente sporco il peggio che potevano fare è stato sequestrato insieme ad altri cinque cani portati via tutti ridotti malissimo 4 sono finiti il canine di erba due da noi e lui è uno dei poverini che grazie a dio è stato salvato quindi è stato visitato e fate le terapie perché comunque era debilitato e adesso in bella forma ed è pronto per l'adozione ecco è qui da circa un mese si è qua da circa un mese perché sequestro è stato fatto un mesetto fa ecco come si è dimostrato a livello caratteriale in questo mese con le persone buonissimo con le persone bravissimo nonostante quello che ha subito che aveva tutti i motivi per non esserlo è veramente socievole ha un po di problemi ma neanche più di tanti con gli altri cani quindi è da testare nel caso una famiglia interessata dovesse avere altri animali in casa si farà le prove come come si fa sempre si viene qua col cane della famiglia e si fanno conoscere che lui non è che tutti li odia dipende anche l'altro cane come gli si pone se parte in maniera aggressiva lui è un cane di quanti e quattro anni 24 anni giovanotto giovanotto ecco possiamo dire qual è la famiglia qual è l'ambiente ideale per nemo allora per lui ideale avere uno spazio esterno un giardino che su un cane comunque lui ha una parte di cane da pastore quindi ha bisogno di spazi a fare il suo lavoro e controllare quello che c'è all'esterno e poi non c'è nello stesso problema di bambini o magari persone anziane anziane può più difficile perché comunque lui tira perché è energico è energico insomma ancora nel pieno della sua e poi una gran voglia di recuperare il tempo il tempo che ha sprecato in quella gabbiaccia dunque di conoscere il mondo e fare nuove esperienze ma lui già qua si è aperto tantissimo era arrivato era molto ombroso era un po' diffidente ma nel giro di pochi mesi si è aperto tantissimo pochi giorni si è aperto tantissimo dunque nemo ora è pronto per essere adottato nemo è pronto per essere adottato lui è sotto sequestro però una volta che abbiamo l'adozione c'è l'immediato di sequestro quindi può essere dato in adozione bene dunque nemo attende presso una famiglia che possa portarlo a casa per adottare o avere ulteriori informazioni basta contattare il canile della valbasca al numero 031 54 29 26 oppure inviare una email a canilevalbasca chiocciola gmail.com grazie a tutti